Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione del Prof.Betti. Oggi vi parlerò di un periodo storico particolare, e cioè della Belle Epoque, quel periodo di pace lunghissimo che ci fu in Europa alla fine dell'Ottocento. Come sempre preparo PowerPoint e cominciamo con la lezione. Quando parliamo di Belle Epoque, quindi, intendiamo quel lungo periodo di pace che vide protagonista l'Europa tra la fine dell'Ottocento, non c'è una data precisa, ma c'è una data di fine, che è il 1914, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Chiaramente questo periodo di pace riguardò quasi esclusivamente l'Europa, anche perché i paesi europei, in realtà, nelle colonie fecero delle guerre, e quindi riguardò soltanto l'Europa. Ma l'Europa era un continente che per secoli aveva visto tutta una serie di guerre. E quindi, sembrò strano, questo periodo così lungo, si parla di 30-40 anni circa, in cui non successe niente di tutto ciò. E quindi si decise di dare questo nome di Belle Epoque. Già il termine ci fa intendere che ha qualcosa anche a che vedere con la Francia. Ed infatti, la Belle Epoque riguardò soprattutto questo paese. E, diciamo che l'evento simbolo della Belle Epoque fu l'esposizione internazionale di Parigi del 1900. Esposizione internazionale che fu caratterizzata, come vedete anche dalla locandina che vi ho messo qui nel PowerPoint, dalla costruzione della Torre Eiffel. E questa esposizione internazionale esiste ancora oggi, è il famoso Expo, che ancora viene fatto a giro per il mondo, ma a quell'epoca vide tutta una serie di innovazioni molto importanti, da un punto di vista tecnologico, e che fece mostrare al mondo il potere e l'avanzamento dell'umanità, e in particolare della Francia. Infatti, vi parlavo di progresso, sia da un punto di vista economico, quindi piano piano la popolazione stava molto lentamente, diventando un pochino più ricca. E però, soprattutto, un progresso tecnologico. Infatti, nel periodo della Belle Epoque, ci sono tutta una serie di invenzioni importantissime per il futuro. Una di quelle centrali, sicuramente, è l'automobile. Infatti, se guardate molte case automobilistiche ancora oggi esistenti, come per esempio la Fiat, nascono proprio in questo periodo. Tra le altre innovazioni c'è l'aereo, poi il telefono, la radio, il cinema, e poi anche molte altre in campi anche diversi, come per esempio la medicina o la chimica. Come vi dicevo, il progresso economico portò anche a un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Infatti, è in questo periodo che nasce l'idea di tempo libero. Infatti, fino ad allora, i lavoratori, e in particolare parliamo soprattutto degli operai, lavoravano praticamente tutto il tempo in cui stavano svegli. Le uniche pause che avevano servivano per mangiare e per dormire fondamentalmente. Ma con il miglioramento delle loro condizioni di lavoro, dovute soprattutto al Partito Comunista, ai sindacati, al Partito Socialista, tutte queste organizzazioni riuscirono a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, che così, piano piano, cominciavano ad avere sempre più tempo libero. E quindi il tempo per andare, per esempio, al cinema, per ascoltare la radio, per fare una girata in auto, ovviamente l'automobile era soltanto per i più ricchi, non per gli operai, ma comunque il tempo libero aumentò. Anche, per esempio, l'idea delle vacanze ha avuto un suo inizio, diciamo, prima in vacanza andavano soltanto i ricchissimi, i nobili, invece, piano piano, si inizia anche a pensare all'idea di vacanza e anche all'idea di sport. Infatti, durante la Belle Epoque comincia ad avere sempre più successo lo sport, sia singolo che di squadra. In particolare, uno degli sport che in questo periodo diventerà più importante, diciamo, è il ciclismo. Ma questa Belle Epoque, ovviamente, non aveva soltanto lati positivi. Diciamo che a un osservatore più attento non sarebbero sfuggite anche una serie di lati negativi che infatti poi porteranno alla Prima Guerra Mondiale, che non è scoppiata ovviamente dal niente, ma è scoppiata a seguito di una serie di motivi. Uno dei principali riguarda la fine delle conquiste coloniali da parte dell'Europa. Infatti, tutti i paesi che erano conquistabili al di fuori dell'Europa erano stati conquistati. E quindi, se adesso le nazioni volevano espandersi, dovevano, gioco forza, combattere tra di loro. E questo, ovviamente, era da considerarsi un problema. Un altro elemento che si sviluppa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è lo sviluppo dei nazionalismi. Infatti, fino alla metà dell'Ottocento non era particolarmente sentito lo spirito nazionale. Diciamo che i primi sviluppi dei nazionalismi si hanno proprio nell'Ottocento. Verso la fine del secolo, buona parte degli abitanti dell'Europa si sentono particolarmente fieri della propria nazione e pensano che la propria nazione dovrebbe conquistare le altre. E quindi, questo sviluppo di questi nazionalismi chiaramente aumenta le tensioni. Ad aggravare ancora di più la situazione ci pensa una nazione in particolare. La Germania, che era, possiamo definirla, come la nazione più giovane, si era formata da pochissimi anni, questa nazione stava conoscendo un fortissimo sviluppo da un punto di vista economico, tecnologico, industriale in particolare, e aveva iniziato una politica aggressiva. Cioè, cercava di dar fastidio alla Gran Bretagna, soprattutto nelle colonie, cercava di dar fastidio alla Francia proprio a livello territoriale, invece proprio cercare di, diciamo, ammassare anche truppe ai confini con la Francia. E quindi questa politica aggressiva della Germania aveva creato tutta una serie di problematiche non secondarie che poi sfoceranno, appunto, nella Prima Guerra Mondiale. E poi, l'ultimo elemento, che poi si rivelerà quello decisivo per lo scopo della guerra, una grande tensione nei Balcani. Questa zona, che era, diciamo, una periferia dell'Europa, era ormai da diversi decenni al centro di molte mire espansionistiche. Infatti i Balcani per secoli erano stati sottoposti all'Impero Ottomano, che però nel frattempo era entrato in crisi, aveva perso questi territori che si erano costituiti in stati indipendenti, ma erano stati tendenzialmente deboli. E quindi c'erano due vicini di casa che, diciamo, erano particolarmente pericolosi. Da una parte l'Austria-Ungheria, che voleva conquistare questa zona per avere uno sbocco più ampio sul mare mediterraneo, e dall'altra parte l'Impero Russo. E quindi sarà proprio questa tensione nei Balcani, che porterà allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Un ultimo elemento da tenere di conto è il fatto che le nazioni europee iniziarono una sorta di corsa a riarmo, cioè tutte cominciarono a spendere buona parte dei loro soldi in armamenti. E ovviamente si sapeva che questa cosa stava succedendo, e quindi ogni volta che veniva fuori che una nazione si armava, le altre cercavano di farlo ancora di più. Questa corsa a riarmo, chiaramente, prima o poi avrebbe portato per forza l'utilizzo di queste armi. Ad aggravare ulteriormente la situazione c'è anche il fatto che tutte le potenze europee, quindi in particolare Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria-Ungheria, erano alleate in qualche modo. E questo sistema di alleanze avrebbe fatto sì che, se una di queste nazioni avesse attaccata un'altra, tutte più o meno sarebbero state costrette ad entrare in questa guerra. Da una parte c'era l'alleanza tra l'Austria-Ungheria, la Germania e l'Italia, che era un alleato un po', diciamo così, a sorpresa, perché in realtà gli italiani e gli austriaci in questo periodo stavano molto antipatici, però questa alleanza era un'alleanza soltanto a scopo difensivo, quindi se una di queste nazioni fosse stata attaccata da un'altra nazione, le altre due dovevano intervenire. Dall'altro lato, invece, il sistema di alleanze prevedeva Francia, Gran Bretagna e Russia. E quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, l'Austria fu la nazione che attaccò per prima e quindi poi l'Italia poteva scegliere se seguire l'Austria in questa guerra oppure schierarsi con gli avversari, ma questo ovviamente lo vedremo in un video successivo. Bene, come sempre, spero che questa video-lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe!